Guarda come si prepara con tuffa, guarda la tuffa. Da dove fa venir fuori? La dove fa andare via? unega spingere come un dannato, via! Allora dove cazzo esce fuori, non riesco a lavorare con la telecamera? Ok, l'avora a 45 gradi padre, hai paura figlia. è arrivato lungo la virata, ha sbagliato però recupererà qui Alberto, figlio, va sotto il minuto e se lo fa Alberto 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 figlio, uno, due, quattro, f***a nuovo record mondiale grazie